Attenzione! 50.000 like e nuove challenge in palestra! Sì, lo so, ho l'uomo più bello del mondo e... Buon rinforzamento amici! Ciao amici! Sì, ma è anche quello più stanco adesso... Abbiamo appena finito di registrare un video super 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 che è uscito sul suo canale Passando poi per il canale di Sofie che è nascita un altro splendido A proposito di Sofie, 100.000 iscriviti! Brava Sofie! Alla vista mille! Grazie a tutti! Vi voglio tantissimo! Tutto grazie all'American Body Quella non è quella americana? Allora, abbiamo fatto un video sul canale di Sofie Una super challenge in palestra, io e lei insieme Quindi ora, oggi abbiamo chiamato i nostri fidanzati Per partecipare a una challenge con noi! Che culo! Ma la cosa bella è che io e Sofie gareggeremo insieme al contro di loro! Noi andiamo al bar? No, al bar non vale andare Non hai detto dove vogliamo gareggiare? Gareggiamo al bar? La challenge l'ho decisa io e si comporrà da 10 mini challenge Pensavo 10.000, mi stavo già spaventando No, no, 10 mini challenge ovviamente avremo un punteggio nostro Tossisci pure la mia ruota Non è perché, almeno se perdo è perché sto male Ma sarete voi a votare nei commenti che sarà il migliore Quindi dividiamoci! Noi abbiamo già vinto la prima challenge per avere sul body roll Ah, quello sicuramente L'estetica è dalla nostra parte Assolutamente, sì Siete pronti per iniziare? No Noi sì Facciamo una poda di battaglia Abbiamo già capito chi vincerà questa challenge Si parte dal corpo libero Sì, intanto ti ho pregato il telefono Dammi il tuo armi La prima challenge che andremo a fare è un gioco che io facevo quando ero bimba in palestra Si fa a coppie Non so, non ci sto più vicino Si fa a coppie Ma no E si chiama capovolta avanti a due La capriola La capriola è la moglie del capriolo Aspetta, sono le capriole delle scimmie Le capriole delle scimmie, sì Allora, camonte delle scimmie Sì, nel fondo vince Esatto Ma Sono un attacca a Roma Naturalmente sono più cariche di noi però Sofì, spacchiamoli Vai, Sasha, spaccatevi 3, 2, 1 Via No Non si vince cos'è Pari? Madonna, mi gira Non sono nemmeno arrivati alla fine Almeno ci ho provato È solo la prima challenge Sono dieci La tua testa abbia toccato il mio scroto Sì, perché mi fa male È la cosa più morbida qua dentro Quindi è la più piacevole Nella prossima challenge Il più forte della coppia Sarà la carriola Vieni su una riga Vabbè, questa la possiamo vincere Pronti? Pronti 3, 2, 1 Via Ma cos'è? Una scimmia? Vattene veloce Ma che cavolo Terza challenge Ricordo che siamo 2 a 0 La prossima vi ammetto che è molto molto difficile Ovvero la vedete la parallela La coppia si distribuirà Uno sullo stagio alto E uno su quello basso Bisognerà mettersi in piedi E stare in equilibrio per 5 secondi Le portate alla colla No, niente colla Bravo Non c'è fretta Vai, vai 1, 2, 3 1, 2, 3 Pronti? 3, 2, 1 Via Oh, oh Mi amico Ma Ma sei un ciclo Ma sono tutti due Hai detto Non sono uno Tu sei caduto Sei imbarazzante Interessante Cosa è successo lì dietro? Quando sali? Vai, salire Aspetta Perché hai giù via? 3, 2, 1 Via 1, 2, 2 E non c'è satta Aspetta Lascia, dai Go 2, 3, 4, 5 Oh Era su, era in su Era su Hai capito? Grande Grande Ho le mani di struttura Raga, guarda il video Siamo 2 a 0 Non voglio 2 a 1 Invece il ciclo vogliamo Invece i miei carini Ok Lei è già su lei Sì, sì I secondi quali Con i miei carini Uno Pronta? Sì Vai Su, su Uno No, uno Due Tre Quattro Cinque E ora se ne sono migliorate Che fai Un punto a testa E il prossimo È molto divertente Ovvero noi passeremo Dallo stagio basso Allo stagio alto In una maniera Leggiadra Dobbiamo convincere i giudici Esatto Creando il nostro Il nostro passaggio Quindi Cervellatevi Mi sento col mio team Vai sentiti col team No, no, tu non devi origliare Ok Pronti a votare nei commenti Sì 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 Vabbè Dai Mi sento più Balla su quel Con le grino Ma carino Non è 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 Cos'è una Salsiccia Vai di meglio E qui è il team leader del team Poche spiagiate Poche spiagiate Astaga Poche spiagiate Che stupo è stasera Dai Vi ha dato lo stagio brutto E c'erano anche noi Chi mai è parto al contrario Scusate Fin delle poche spiagiate Oh Raga Mi si è aperta una mistera Addio Guardate il callo Che c'è raga 3 anni Quando mi si apriva un callo Mamma mia Questo merita il voto Questo fa mal Stop Sfidia paralleli Io sono qua A rappresentare il team Metti giù con il cucchino Dele poche spiagiate Ma io in effetti Sono soltanto un lavavetri Esatto Non le rimetti giù Cosa c'è? Che Si ostaggi Quanto sono sporchi Non è Non è Quanto sono sporchi Non è Non esistivo Esatto No No Il torero E là Eccoli qua Torero Prendi Quelle Le stesse da mano Gabbiano Aiuto Abbiamo un torero Pulitore di vetri Aiuto I got you 1 2 3 Forza Vai esci ciuccio Ciuccio Sasha Stavo scherzando Allora adesso Semplicissimo Uno di noi inizierà a saltare Il compagno Lancerà i pezzi di gomma piuma Chi più riesce a tenerni Facendo che ne cadere Al massimo 3 La vince Sofì prego Pronta Yeah Viamo Uno Vado su due Grande No Non prego vuoi 3 No Non prego Errore No Metti fuori Grande 4 Vai con i denti Sofì C'è l'idea Ognuno E' 6 Salta Bravo Tra le gambe Sofì Tra le gambe Devo scagli in faccia Raga 6 Uno alla volta Uno alla volta Uno Uno Due Non vale Hanno trovato la tecnica Dell'incastro Ma guarda che Sopri sta incastrando Mi sta comprimendo Oh Fuori uno L'ha presa al volo No Metti E' intelligente No raga Ti battono 5 Mamma mia I miei ragazzi Bravi Belli pizzare No Sette No Sette L'ha preso Ci ha rimesso la faccia Ma l'ha preso Se ne prendi anche solo uno Avete vinto Ha cagato Amore Le hai persi Però non vale No no Ottimo Ci stanno Non è di percorso Vai C'è il vento No hanno vinto Facile Imbattì No Basta 2 2 4 6 Con 7 Si portano a casa a questo punto Dannazione Mica si fa fregare Sti fuoco Non volevo vederlo Nemmeno io Andiamo Adesso ci divertiamo Andiamo in trave Raga trave Partiranno i vincenti Quindi Christian prendi il lato della trave E Sasha prendi l'altro lato della trave Bisognerà scambiarsi Ma senza toccarsi Vai Vai Votate quella più bella Senza toccarsi È la nostra Sofi È la nostra tecnica Devo saltare Amma Tentativo 1 ho fallito Ma cos'è Eh no Ho toccato la testa Bravi Senza neanche parlarsene Ma ormai Ah Lo sta facendo Ha toccato il materno Sì Guarda come sono concentrato Guarda come voglio vincere Eh ecco Ciò che Vabbè Si guarda Pure Olè Ha toccato con i piedi il materasso Savri Sì La seconda è più difficile Questa è una cosa di inventiva Bisogna arrivare dall'altra parte della trave Senza usare i piedi Cronometro attivo 3 2 1 Via Eh sì Fino alla fine Dov'è anche cadere No senza cadere Inventiamo le regole Man mano Così mettiamo Vai E stop Grande 15 e 31 Sete? 3 2 1 Si lei è facita la mia ista Eh la madre Eh che è? No no Non ce la Cadica Si si sta cadendo Ma sappia Mi sp하고 Mi spavate Siamo Ok see amore Pari Non è vero Non è vero Non è vero Si pari tre secondi dopo Grazie Sopi Si Asanas C'è andata Male Per il prossimo Diventeremo dei bodybuilder Lo vedete Questo materassone Che bisogna Farlo arrivare dall'altra parte e farlo tornare indietro vedremo chi sarà più builder del team in posizione 3 in posizione 2 in posizione 1 via è una gara Sasha vai riga arrivati cambio o ti sposti o vieni sovrastata stai bene amore? meno male ora il salto più artistico e più carino di sempre per convincere la giuria ovvero voi ad essere votati Team Sofie 3 Sari oh yeah mi ha copiato l'idea guardami sta buona ballerina è vivo ciao colpisci lo colpisci no ti ha ignorato votatemi perché ero un bello ostacolo team delle poche ha messato la tavola mi ha preso un colpo e ora per chiudere in bellezza facciamo una shakerata e voterete il bacio più bello ed artistico ma aspetta non ti preoccupare cambiamo team penso si si vieni vieni qui amore ora senti con me tanto lo so che nei commenti hanno votato noi pensavo di essere con Sasha ora bacio ginnico bellissimo iniziate voi giù giù hanno già capito amore cos'è noi li mimiamo amore li mimiamo no noi meglio meglio cosa è sta roba pronti scrivete l'instagram scrivete l'instagram loro due contro tocca a noi amore li battiamo su tutto senza noi la mossa del tavolo fai il porco sopra fai il porco no porco non sta in piedi sta sopra la teglia mi raccomando scrivete l'instagram gli vogliamo uno di fianco all'altro con i nostri tag e votate il migliore detto questo venite qui amici grazie a tutti i miei compagni per aver partecipato a questo video io spero vi sia piaciuto a morire mi raccomando voglio 50.000 like perché questi qua tornano dall'america e vengono a fare un'altra challenge con noi ma stavolta deciderete voi sia i vincitori che le coppie vi invito a mettere un like a passare sui loro canali cria e berta anche tu il canale si venite sul mio canale cioè ne abbiamo quattro non vuoi ammettere i video quindi passate sui loro canali io aspetto i like perché vogliamo tornare in palestra lui si è fatto male alle parallele a fare un nuovo video ci vediamo sui canali e gli altri a fare un'altra a fare un'altra a fare un'altra Grazie a tutti